Dinamico, automatico, atletico, acrobatico, magnetico, frenetico, simpatico, roto. Con due scatole di latta, due ciabatte vecchie, un fondo di pignatta, un amore del campanello di una bicicletta, un manico d'ombrello, quattro pile nel gilet, indovina che cos'è? È un robot per divertirmi, pronta ad aiutarmi quando piace a me. Ma che roba quel robot, che combina non lo so, fa la doccia col telefono e la barba col microfono. Ma che roba quel robot, va a dormire sul formò, ma cosa ne ha a memoria, è un confusionario altro che un robot. Don prec soprano Ha portato due bulloni, telescopio indormite e cinque, sei limoni. Io non so che mai sarà, ma qualcosa qui non va. Forse c'è la batteria da buttare via, forse chi lo sa. Le ruote continuano a girare, quindi c'è qualcosa che non funziona. Le ruote continuano a girare, quindi c'è qualcosa che non funziona. Allora vogliamo riprovare a vedere se così funziona? Le ruote continuano a girare, quindi c'è qualcosa che non funziona. Le ruote continuano a girare, quindi c'è qualcosa che non funziona. La Gabriele ha ragione, mi sta dicendo che siccome qua ci sono due azioni che rispondono allo stesso comando, nel momento in cui voi cliccate sulla bandiera deve fare due cose. C'è qualcosa che non va. Quando il tasto spazio viene rilasciato. Ok, vi faccio notare che qua cosa potete fare? Se avete già un tasto spazio, cosa potete fare? No, lo rilasciamo e lui. Quello potrebbe andar bene oppure cos'altro potete fare? Cambiare le lezioni. Perché poi vedi che di nuovo avete due comande uguali. Ma qua, quando il tasto spazio, potete fare qualcosa lì. Deve essere per forza il tasto spazio. Qui mettiamo la G e la M perché... Ora, quando il tasto... Il tasto quello lì sì. No, però... Sì, sì, quello lì. Deve dire il tasto 1. Ma magari è questo? Magari è questo? No. No, no, no. Alice. Io ho messo questo, quindi non vai chiamare. Quando si prende il tasto, per me. Quando si prende il tasto 1, cosa potete fare? Accende. Accende il led. Sì. Aspetta il led. No, aspetta il led. Adesso lo so. Atlassimo. Aspetta il led. bravi